Buonasera, dottoressa Giussi Princi, siamo qua a Gezzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, è un premio di cui sono profondamente inorgoglita, ringrazio la Presidente del Prologo, la dottoressa Fregale perché è un premio particolare, un omaggio alla cultura che rappresenta e deve rappresentare il riscatto della nostra terra, una cultura che mi ha vista in prima linea qui in Regione Calabria e che mi vede altrettanto impegnata in Europa perché l'auspicio è proprio quello che attraverso la cultura ci possano essere quelle donne e quegli uomini migliori che contribuiscono alla crescita della nostra società, per cui è bello essere in questa bellissima location di Caposuvero, di Gizzeria che rappresenta veramente quella Calabria positiva, una narrazione diversa che parte proprio dalla cultura quale vola in occasione di crescita. Grazie. Grazie.